Un saluto ai lettori di orgoglio astigiano da parte dell'Associazione Culturale Cuba Libri. Il momento più bello della giornata è senza dubbio l'aperitivo, ancora di più se condiviso con persone accomunate da una passione, la lettura. Ci vediamo il venerdì alle 18.30 al fuoriluogo. Non c'è Cuba Libri senza Cuba Libri! Grazie a tutti!